Ho visto la prima partita di Coppa Italia di Pionte 3 gol, 2 di testa, uno saltando soprattutto di mezzo metro l'altro anticipando tutti mi ha dato l'idea di un giocatore che ha una fame incredibile ed è un giocatore che anche in Polonia appena tirava faceva gol l'anno scorso aveva fatto 23 gol in Polonia ma poi lo vedi, lui non sbaglierà mai, non potrà mai sbagliare perché ha volontà, forza fisica, aiuta la squadra e soprattutto è una belva perché anche il terzo gol con l'Atalanta dove si è buttato in mezzo a Zapata il portiere ci vuole coraggio forse quello è ancora più bello dell'altro dove è andato a anticipare veramente, secondo me, coraggio, si è andato lì, è andato in mezzo l'altro è più difficile al tiro, la sua forza è il tiro c'è un altro giocatore che sarà secondo me un grandissimo attaccante, un 2003 Tursky, notatelo così te l'ho dato in anteprima il 2003 gioca con il 2002 è una prima punta, un'ulteriore prima punta fisica e sa giocare nel futuro secondo me questo ce lo ritroveremo, non so se in Italia ma sicuramente in un campionato importante è una prima punta, un'ulteriore prima punta, non so se in Italia